Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, finalmente siamo qua perché voglio mostrarvi tutti i regali che ho ricevuto in questo Natale 2022 ma prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video poi se mi volete lasciare anche un like di supporto io vi ringrazio tantissimo, tanto come vi ricordo sempre per voi è assolutamente tutto gratuito ma mi serve semplicemente per mantenere in vita questo canaluzzo come state? Natale è passato, ormai siamo nel 2023 quindi colgo l'occasione di questo video per augurarvi un speriamo, speriamo dopo questi anni infernali un felice 2023 piccola premessa, non giro questo video per vantarmi di quello che ho ricevuto assolutamente ma è il video che amo di più registrare ma anche guardare perché nei video di questa tipologia si trovano sempre degli spunti bellissimi per fare acquistini per noi ma anche se poi abbiamo altri regalini appunto da fare che per forza devono essere di Natale per la nostra famiglia, per i nostri amici iniziamo subito una mia cliente mi ha regalato questo panettone classico deluxe deluxe è la linea un pochino più prestigiosa della Lidl quindi si è presentata con questo panettone e sono stata felicissima a dire la verità io non mangio il panettone classico perché non mi piace e tantomeno mi piacciono i canditi io sono una da pandoro oppure da panettone, scusate un capello da panettone particolare quindi tipo i miei soci li mi hanno regalato quello ai tre cioccolati che mi sono dimenticata di prendere e da mostrarvi oppure il pistacchio però quello classico non amo ma non c'è problema perché io ovviamente apprezzo tantissimo il gesto e il pensiero che tutte le persone hanno avuto per me e non vado di certo a vedere cosa mi hanno regalato e cosa non mi hanno regalato ma di questo è molto felice mio babbo perché ad esempio invece mio babbo mangia solo il panettone classico assolutamente poi mio zio il fratello di mia mamma mi ha regalato questa pianta presa da una fioraia qui di dove abitiamo noi vedete già un po' rotta perché ho aperto la confezione per dare un po' d'acqua comunque abbiamo questa piantina che credo che si chiama che sia il giacinto rosa credo perché qui abbiamo scritto jacintus pink quindi credo sia il giacinto rosa io sono un po' ignorante quindi perdonatemi e poi abbiamo questa bambolina qui davanti poi qua sta già morendo ma mio babbo ha detto di non preoccuparsi perché tanto qua c'è il bulbo e quindi poi primavera estate prossimo anno mi ricresce anche se questi due muoiono poi va bene non c'è problema poi inizio totalmente a pescare a caso allora dei nostri amici che tra l'altro sono gli amici ai quali abbiamo io e Antonio fatto da testimoni quando si sono abbiamo fatto sì da testimoni quando questa coppia si è sposata in comune ci hanno regalato due cose bellissime che io volevo ma ripeto quando io dico che non mi interessa ciò che mi viene regalato ma proprio il pensiero che ci sta dietro Maria Francesca la mia amica mi ha fatto personalizzare ad hoc queste palline natalizie da appendere all'albero da sua cognata perché sua cognata fa dei lavori a mano fantastici veramente e lei sa che appunto casa mia e di Antonio sarà in stile industrial quindi avremo come colore predominante il nero avvicinato al legno però sa che avevo pensato a uno stile decorativo in color oro per esaltare proprio il nero e quindi lei si è presentata con queste due palline qua l'ha fatta sia a me che ad Antonio lei ha detto solamente alla cognata che appunto le palline dovrebbero essere oro e nere e lei ha fatto queste due meraviglie sono interamente fatte a mano cioè guardate cosa non sono queste palle ora devo correre dai cinesi a comprare delle scatole trasparenti da mettere ognuna all'interno per preservarle appunto per tutti gli altri anni perché non vorrei assolutamente in nessun modo che si rompano comunque ve le faccio vedere più nel dettaglio lei ha tagliato ogni singola lettera l'ha incollata ha fatto questa decorazione ha attaccato la perlina ha colorato lei con tutti i glitter ha messo lei questo ricam cioè è veramente veramente brava anzi se vi interessa dato che lei fa qualsiasi cosa su commissione basta che voi le scrivete avrei bisogno di personalizzare questa cosa le dite le vostre idee e lei ve lo realizza quindi se vi può far piacere io qua giù sotto nell'info box vi lascio il nome su Instagram così che la potete trovare io non ci ricavo niente ma sicuramente potrà far felice qualcuna di voi perché è veramente un artista e poi qui c'è il bigliettino ma ovviamente non lo andrò a leggere poi 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 allora cosa posso trovare cosa posso trovare allora questa scatola è vuota la fatemi vedere allora una mia amica che ad oggi siamo amiche ma fino all'anno scorso eravamo colleghe perché l'ho conosciuta quando lavoravo all'Anfas lei fa l'infermiera e noi ci siamo conosciute abbiamo stretto amicizia bevendo fondamentalmente caffè al lavoro e quindi mi ha regalato questa cosa proprio ripensando al modo nel quale ci siamo conosciute infatti poi qui c'è il bigliettino che anche qua tengo per me e in un negozietto che si chiama vizi di casa oggettistiche e accessori che credo si trovi a Carrara se qualcuno della zona vi può interessare esatto Marina di Carrara via Volpi numero 7 così chi è della zona ci può fare un salto mi ha regalato questa bellissima tazza termos con i fenicotteri rosa e azzurrino questa tiene sia caldo che freddo e voi ve la potete ovviamente portare in giro è fantastico e più che altro ripeto mi è piaciuto tantissimo il fatto che mi abbia regalato questa tazzina proprio perché alla base c'è il pensiero che noi ci siamo conosciute abbiamo sentito la nostra amicizia bevendo il caffè infatti adesso che io bevo il caffè in un altro posto di lavoro e lei continua a berlo lì senza di me è molto triste però siamo comunque amiche e nulla questa qui tra l'altro secondo me ha un design so cute troppo troppo bellina poi 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 un'altra mia cliente mi ha regalato questa pallina sempre da attaccare all'albero molto vedete natalizia con tutte le case innevate con scritto merry christmas e il pupazzo di neve ma la cosa meravigliosa è che si illumina ora non so con voi quanto possiate vederlo dentro ha le luci a led veramente veramente deliziosa anche questa super super apprezzata anche perché io al centro estetico ci lavoro da pochissimi mesi da ho iniziato i primi di agosto e pensare che appunto qualche mia cliente mi ha fatto dei regali che fondamentalmente non è mia cliente personale è cliente del centro estetico ma hanno voluto fare a me quindi un regalo per me significa veramente veramente tanto poi la mia titolare ha pensato di fare una cosa meravigliosa ovvero quella di dire non vi regalo nulla di materiale perché tanto avete tutto vi porto a cena fuori quindi ha portato me e le altre mie colleghe a cena fuori in un ristorante top veramente veramente fantastico tutto a base di pesce eccezionale ma la cosa che mi è piaciuta di più assolutamente non è tanto appunto il regalo in quanto se anche perché naturalmente in quel ristorante io non credo che ci potrò mai andare però il fatto di condividere una serata tutte insieme e quindi staccare dal lavoro ma passare del tempo come persone come amiche per me è stato bellissimo invece le mie colleghe mi hanno regalato un set formato da sciarpe e cappello in lana di alpaca per il viaggio che faremo insieme a Londra e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è appunto oltre appunto al pensiero che mi dice almeno ti addobbiamo a festa per venire a Londra a stare al caldo è il fatto che io allora avessi detto che molto probabilmente mi vorrò mettere il burric perché tiene bello caldo e gli avevo appunto detto che il mio burric è di color ghiaccio e loro come mi hanno preso la sciarpa e il cappello color ghiaccio cioè a me sono queste cose che piacciono ripeto non è il regalo fisico ma è proprio il pensiero che c'è dietro e quindi pensare che una persona due persone cento persone abbiano speso il loro tempo e abbiano avuto il pensiero di donarvi qualcosa secondo me è la cosa più bella veramente perché poi fondamentalmente è quello che faccio io quando appunto faccio un regalo insomma abbiamo il cappellino è caldissimo è morbidissimo ovviamente tant'è che Antonio se l'ha già provato me lo vuole rubare non vi dico altro e poi abbiamo appunto la sciarpa che è di base color ghiaccio e poi ha tutti i toni neutri perché poi tra l'altro avevo detto che come scarpa invece mi volevo portare le baffalo e le mie baffalo sono color beige quindi si abbina tutto molto perfettamente quindi io le adoro questa e tra l'altro mi piace tantissimo anche il fatto che sotto abbia i frangioni proprio avvolgenti è super super morbida e allo stesso tempo mi piace anche che non sia troppo ingombrante ecco quello mi piace tantissimo perché io invece ho fondamentalmente la maggior parte delle sciarpe che ho sono tutte molto ingombranti tant'è che alcune volte le metto proprio come scialle per coprirmi tutta poi il mio padrino quindi uno degli amici più stretti di mio padre che mi ha fatto da padrino al battesimo ogni anno sia a Natale che al compleanno mi fa un regale quest'anno mi ha regalato per Natale questa meravigliosa sciarpa con tutti i gattini sa che io amo gli animali in particolar modo i cani e i gatti quindi mi ha voluto regare questa sciarpa sempre dai dei colori neutri perché c'è il grigio c'è il marrone c'è il beige con tutti questi gattini stilizzati anche questa è morbidissima ora è il sacchetto con il nome del negozio l'ho lasciato sotto l'albero perché dentro c'è già il mio regalo di compleanno però la marca è Honest infatti anche sul si ora che ricordo il sacchetto è grigio con la marca Honest bianca però il controllo del cartellino quindi non vi saprei dire dove l'ha riperita se vi potesse interessare magari cercate su google la marca Honest e vedete dove potete trovarla comunque anche qua bellissime con le frange questa vedete è già più larghe quindi è già un po' più avvolgente io questa qui ripeto la uso anche come scialle però bella 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 calda bella morbida poi 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 un'altra mia collega invece mi ha regalato questo set di Yves Rocher questo nello specifico è un set formato dal golmage quindi dallo scrub per il corpo e dal doccia schiuma sempre per il corpo allora andiamo subito a vedere la profumazione perché poi lì alla cena l'ha aperto una mia collega per sentire la profumazione quindi non sono stata ad aprirla io comunque oddio che profumo fantastico ok al latte di mandorla quindi profuma sì per forza questo è lo scrub e questo invece è il bagno schiuma in gel profuma veramente tanto buono buonissimo io amo i Rocher io ho lavorato anche per loro perché è un'azienda che mi piace molto sono tutti prodotti molto attenti all'ambiente a parte che secondo me dovrebbero rimuovere tutte tutte le bottiglie in plastica però all'interno trovate sempre tra il 95% il 99% alcuni prodotti anche il 100% di origine naturale poi un'altra mia cliente mi ha regalato questo portachiavi con il cuoricino tutto brillantato questo l'ha preso in un da chargé è un negozio che si trova a massa in centro credo sia anche una catena che si possa reperire facilmente più o meno in tutta Italia forse più centro che credo al sud no però credo sia una catena abbastanza diffusa questo poi 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 vi faccio vedere due miei autoregali allora mi sono presa questo vestitino camicia da H&M questo vi so dire anche quanto l'ho pagato allora sono andata al centro commerciale terrazza spezia un giorno con Antonio a fare un giretto perché siamo andati abbrugnato perché Antonio come sempre doveva vedere fare un giro alla Mike non abbiamo trovato nulla abbiamo fatto presto e anziché tornare a casa relativamente comorare era presto abbiamo detto vabbè allunghiamoci fino alle terrazze tanto è di passaggio ritorno verso casa e io ovviamente ho colpito allora vi faccio vedere mi ha colpito ovviamente il colore perché secondo me questo color ciclamino mi sta benissimo e io lo stra stra amo infatti lo faccio spesso anche sulle unghie mi trucco di questo colore ho un cappotto un maglione io lo stra amo questo colore e quando ho visto questo abitino camicia me ne sono completamente innamorata questo l'ho trovato nella rella delle ultime cose scontate questo costava 44 e 99 l'ho pagato 20 euro quindi l'ho subito preso ho voluto prendere un xl perché appunto lo voglio sfruttare sia come vestito sia come camicia ma non camicia tutta chiusa praticamente ora non si capisce nulla e non so nemmeno se ho il tempo di farvi vedere le cose indossate qua dietro vedete che ha questo ricamo praticamente sopra vi da l'effetto di una camicia un pochino una camicia poi sui fianchi si stringe è bellissimo e ripeto lo potete usare anche come vestito però forse è un po' troppo corto per i miei gusti e quindi avevo pensato di metterci sotto una bralette chiuderlo sulla pancia e lasciare aperto la camicia e sotto magari metterci un leggings in pelle con un bel stivale o un bel tacco l'idea mi è piaciuta molto 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 oppure se volete essere un pochino più easy mettete un bel jeans un top bianco e sopra questa aperta e fate comunque il vostro figurone perché già il colore fa tutto è meravigliosa e poi ho voluto prendere un'altra camicia questa anzi che 20 euro l'ho pagata 10 euro quindi al 50% questo camicione di questo azzurro over 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 oversize anche qua da mettere o chiuso sopra un pantalone aderente perché comunque è molto largo e quindi per andare a riequilibrare un po' tutto i pantaloni al di sotto ci vogliono stretti quindi anche qui un bel leggings un bel pantalone di pelle oppure un jeans skinny nero oppure anche qua jeans top e bianco sotto e questa aperta però mi piaceva molto più l'idea di mettere questo qua sopra over e poi sotto qualcosa di più aderente e anche questo ripeto una camicia perché anche qua vedete i suoi bottoncini anche questo ho voluto prendere a parte che era l'ultima forse c'erano le ultime due XL ma comunque anche qua la volevo ancora più larga del dovuto e nulla veramente quando le ho viste mi hanno colpito e ho deciso subito di prenderle qua è il bigliettino della cliente che mi ha regalato il portachiavi bellissimo anche questo poi 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 cercavo un altro regalo se riesco a provarlo dove li ho messi allora pacchettino di Ted Dennis la mia amica Francesca quest'anno mi ha regalato due cose è la famosa Francesca che l'anno scorso se vi ricordate bene mi ha regalato le pantoffole arancia quest'anno invece è rimasta un po' più sul sobrio ma quest'anno anche troppo che ha pensato a farmi un regalo mi ha voluto regalare ha fatto lo stesso regalo sia a me che a me a Francesca perché siamo tutte amiche questo paio di calzini di Ted Zenith e ovviamente nere e la cosa che le è piaciuta tantissimo a lei e quindi il motivo per il quale ha scelto questi calzini ma che mi hanno fatto totalmente innamorata sono questi due orsacchiotti sull'idietro con il cuoricino rosso quindi sicuramente questi qui li sfrutterò con le scarpe da ginnastica e i jeans e un paio di jeans corti cioè corti un pochino più alti della caviglia e quindi sicuramente li metterò perché almeno mi si vede questo bellissimo orsacchiottino e poi da da bottega verde mi ha preso anche qua una cremina mani ha lo zenzero vellutato con note di melograno e appunto zenzero rosso è una cremina per le mani tra l'altro top infatti gliel'ho detto sei caduta a fagiolo perché quella che tengo io in borsa è finita quindi la vado subito almeno ora che ve l'ho fatta vedere la vado subito vado a mettere questa il profumo è qualcosa di strepitoso se avete un negozio di bottega verde vicino casa vostra andatela a odorare a sniffare compratela spargetevi tutte perché è una fragranza veramente veramente top è dolce molto dolce poi 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 io dove li ho messi ecco lì un'altra cliente mi ha voluto regalare un paio di orecchini fatti a mano da lei anche qua c'è il pensiero che c'è dietro ovviamente c'era tutto il sacchettino carino il biglietto di auguri e quant'altro ma io li ho utilizzati per lavorare in negozio quando me li ha dati quindi il 22 il 23 il 24 e quindi il sacchettino non c'è più insomma comunque gli orecchini fatti a mano sono questi sono meravigliosi a me tra l'altro piace tantissimo il contrasto e l'abbinamento tra rosso e rosa quindi top veramente veramente belli ora io li appendo nel sapete che io ho lo specchio che si apre dentro fa da portagioie li metterò lì per il prossimo Natale che poi ovviamente si possono sfruttare anche non a Natale però col fatto che mi li ha regalati a Natale ormai ho l'idea che questi siano orecchini natalizi comunque questi veramente anche qua regalo super super apprezzato poi cosa vi faccio vedere allora mia nonna mi ha dato ai miei suoceri a me e ad Antonio hanno dato una bustina con i soldi stessa cosa che hanno fatto i miei cognati e che ha fatto mia nonna quindi abbiamo riunito tutti questi soldi e li abbiamo messi da parte per quando dovremo appunto decorare o con un muro in cui comprare cose come ad esempio la frigitrice ad aria la macchina del caffè insomma quando dobbiamo riempire un po' la casa e quindi abbiamo deciso di metterli da parte per quello scopo i miei genitori mi hanno dato anche qui una bustina con i soldi però Antonio mi ha detto no quelli usateli per te non li mettere per la casa un'altra mia cliente ma lei mi conosce da quando mia mamma mi ha in pancia anche lei mi ha regalato dei soldi e quindi anche questi ho deciso di metterli insieme a tutti i soldi per la casa e i miei genitori stavo dicendo oltre ai soldi che appunto Antonio mi ha detto ti è lì per te mi hanno voluto regalare perché mi conoscono molto bene questo specchio con l'illuminazione led fatto apposta per truccarsi io mi trucco in bagno però la luce non è top tant'è che alcune mattine magari un po' assonnata mi trucco poi mi metto in macchina per andare al lavoro mi guardo lo specchietto con la luce naturale oddio e quindi mi spavo un po' magari il trucco con le mani e quindi nulla per fortuna loro mi ascoltano quindi mi hanno fatto correre i lipali mi hanno regalato questo specchio che tra l'altro si può utilizzare sia appoggiato sul tavolo sulla postazione sia vedete lo potete attaccare ad una superficie verticale non l'ho ancora aperto perché appunto aspettavo di farvelo vedere tra l'altro questo ha le pile incluse per fortuna perché le pile non sempre si hanno in casa e poi qua dice che quando vi specchiate per truccarvi se vi avvicinate leggermente avete uno zoom del 5x tipo siete molto zoomate quindi potete truccarvi nel minimo dettaglio ora io vorrei anche aprirlo per vederlo insieme a voi però c'è lo scotch vediamo se riesco a toglierlo sì così lo guardiamo insieme allora lo specchio per farvi vedere le dimensioni allora aspettate un attimo che sto facendo solo distanzino qui abbiamo le istruzioni poi appunto abbiamo le nostre pile e poi questo è lo specchio ora vi vedete riflessi questo è lo specchio ciao questo è lo specchio anche dietro è molto bello perché è specchiato questo vedete lo potete appoggiare altrimenti qua dietro non vorrei romperlo però comunque lo addirittura questa palla qui la potete togliere oppure voi l'attaccate al muro così e vi vi rimane insomma ad esempio stavo pensando voi in bagno avete lo specchio grande attaccate questo e avete anche lo specchio piccolino come usano fare in alcuni alberghi e poi appunto si attacca con con la ventosa non vedo l'ora di utilizzarlo e sì devo dire che lo zoom è tanta roba ora io non so come farvelo vedere però è tanta tanta roba oddio si vedono anche le rughe che credevo di non avere comunque sia cambiamo discorso e poi i miei genitori mi hanno regalato ma a questo punto ci hanno regalato un'altra smart box questa è la non è non è proprio smart box è la wonder box che comunque sia è la stessa cosa questa i miei genitori me l'avevano già regalata una alla laurea alla magistrale e me l'hanno regalata anche per questo natale cosa apprezzatissima perché queste smart box c'è chi le ama e chi le odia io ora le amo no però mi piacciono mi piacciono riceverle e soprattutto come regalo perché vuol dire che posso andare via a dormire gratis comunque sia questa è mille una notte da sogno per due persone e questo qui è tanta roba perché tutti gli hotel che troverete appunto poi andando a sbloccare questa smart box sono da 4 o 5 stelle potete scegliere o una notte con colazione e l'attività di benessere oppure due notti un aperitivo e due colazioni oppure una notte una colazione e una cena io credo che sicuramente cercherò qualcosa per fare due notti quindi due colazioni e un aperitivo quindi per fare una cosina magari andare via a tre giorni tra l'altro una smart box di quelle che appunto tutte le smart box che mi hanno regalato una l'avevo già usata con Antonio molto probabilmente quando torniamo da Praga e da Amsterdam rifaremo due giorni fuori proprio grazie a una smart box e quindi poi sicuramente prossimamente nei prossimi mesi sfrutteremo anche questa anche questa hanno validità due anni credo o quattro perché so che alcune hanno validità quattro anni ora qua non c'è scritto comunque sia o due o quattro anni tra l'altro qua c'è scritto che questa smart box oltre che l'Italia eccolo qua ha validità ha validità di tre anni e tre mesi e c'è anche la garanzia di furto o smarrimento comunque sia la cosa molto molto interessante che potete con questa potete farvi un weekend sia in Italia ma anche all'estero perché all'estero ci sono più di 300 strutture che accettano questa box e quindi sicuramente mi farò tre giorni da qualche parte conoscendo poi passiamo agli autoregali dai non sono tantissimi facciamo presto oltre a le due camice che vi ho fatto vedere ho fatto un ordine su su Privalia perché c'era la la sezione cosmetica coreana e ovviamente quando Martina ha letto cosmetica coreana cosa ha potuto fare bene e quindi eccoci qua allora ho voluto prendere questi patch occhi di purderm e sono vegani e sono al collagene ed è qua dice che sono proprio è proprio un trattamento al collagene per andare a riparare un po' la situazione qua sotto quindi a sgonfiare le le occhiaie e andare un po' a ridurre le borse il fatto è che qua dentro ci sono 30 patch occhi infatti qua voi andate ad aprire qua e poi qui abbiamo il il sigillo di freschezza nulla non li ho pagati tanto perché l'avrò pagati intorno ai 6 o ai 7 euro non ricordo comunque voi vi scaricate Privalia se non lo avete e più o meno ora non vi dico una volta a settimana ma una volta in due settimane vi compare proprio la sezione skin care coreana l'aprite e ci sono tutte le categorie e se vi interessa qualcosa dateci un occhio perché sono tutti prodotti appunto made in Corea in particolar modo Corea del Sud e come ripeto sempre sappiamo tutti che la Corea del Sud è la patria veramente della skin care io da quando utilizzo solo skin care coreana vedo veramente dei risultati ma seri veri e poi sempre in quella sezione mi sono presa questo cofanetto ovviamente di maschere per il viso del brand AHA e queste sono perché ho preso questo cofanetto perché all'interno di questo cofanetto non ci sono solo maschere ma è proprio viene indicato come il set di rituale giappone coreano di bellezza infatti qua vi da tanti step da utilizzare proprio in una skin care completa per vedere appunto i risultati dei quali vi parlavo prima quindi all'interno ora vediamo se riesco a dirveli in fila allora troviamo questo gel detergente per il viso in formato full perché sono 145 grammi io ho tutto questo cofanetto all'interno abbiamo uno due tre quattro abbiamo quattro prodotti sì questo cofanetto io l'ho pagato solo nove euro anziché 20 mi pare sì perché comunque la skin care coreana quella vera non costa pochissimo quindi quando ho trovato questo cofanetto l'ho voluto prendere subito per quello perché era super scontatissimo quindi questo più che detergente è proprio un cleansing per il viso con gli estratti di mela credo perché qua è tutto scritto in coreano però vedo che c'è l'immagine di una mela quindi questo ora è sigillato quindi non vi riesco nemmeno a dire il profumo non lo so da aprire perché ne ho un altro appunto da finire poi all'interno trovi oddio che casino che c'ho qua sul letto non vi potete immaginare poi troviamo troviamo ok allora troviamo questa maschera ovviamente in in tessuto ma con all'interno il siero non so credo sia una pesca questa un'albicocca questa viene dal giappone si questa qui è da tenere su solamente cinque minuti qua dice lasciare tra i tre e i cinque minuti lasciare sul viso dieci minuti se avete una pelle che ha bisogno di molta idratazione quindi qui abbiamo una maschera idratante però impregnata di siero come se ci fosse della crema e perché vi dico questa perché invece quest'altra maschera sempre in tessuto è una jelly mask quindi non abbiamo il siero ma abbiamo la maschera gel spero di essermi spiegata anche questa uguale lasciare tre cinque minuti se c'è una pelle invece che ha bisogno di più idratazione lasciare dieci minuti quindi questa e per finire abbiamo questa maschera tra l'altro one minute quindi abbiamo una maschera in tessuto da tenere su solo un minuto alla camomilla quindi questo vi va a rilassare la pelle e ad esempio se avete una pelle che sia rosa o ad esempio come me se soffrite un po' di cuperose sicuramente questa maschera la camomilla è fantastica perché appunto vi va a calmare un po' il rossore o comunque anche se avete una pelle un po' irritata e questa è da fare prima di andare a letto e questa dice che è fantastica appunto da mettere un minuto prima di dormire perché vi va oltre oltre a dare benefici di una maschera quindi nutrizione e interazione poi per tutta la notte gli ingredienti lavorano e quindi è come se voi vi foste addirittura applicati una crema fantastica fantastica sono impazzita quando ho visto questo cofanetto poi quando sono andata al centro commerciale le terrazze ovviamente sono passata anche alla Feltrinelli e ho comprato due libri io vi dico sempre che non tendo mai a comprare cioè non mai non tendo per la maggior parte delle volte a comprare libri in libreria perché essendo che io leggo tanto tutto il mio stipendio andrebbe in libri e in maschere quindi prendo sempre al mercatino dell'usato su Vinted oppure vado all'aggiunti a Brugnato perché ha dei bellissimi libri anche a 2-3 euro però questa volta ho detto sai che c'è Natale a Natale a compleanno mi faccio sempre dei regali quindi chi se ne frega e dato appunto che sono i miei autoregali di Natale mi sono voluta regalare La morte bus a Natale di Fergus Um quindi un libro proprio ambientato nel periodo natalizio ma ovviamente la storia è un crime quindi sempre un genere che piace a me però ambientato in questo periodo ho avuto pochissimo tempo di leggerlo infatti ho letto solamente 70 pagine devo dire che allora intanto edito per Lindau al prezzo di 19 euro lo trovate alla Feltrinelli è piccolino quindi per chi ha tempo riesce a leggerlo anche volendo in tre orette magari con una bella tazza di infuso top allora vi leggo la trama e poi vi dico tra l'altro la copertina è bellissima veramente meravigliosa allora vi leggo la trama nel salotto dei morli sotto l'albero di natale i bambini si divertono rumorosamente con i giochi appena ricevuti in dono mentre gli adulti si scambiano auguri e regali questo quadretto di liaco nasconde però rancori e gelosie che non tardano ad emergere una lettera anonima porta lo scompiglio fra i presenti quando poi si scopre un cadavere apparentemente pugnalato alle spalle nel cimitero della chiesa tutti o quasi sembrano certi che il colpevole sia la bella e sfuggente han denham incaricato delle indagini è il detective steel di scotland yard mentre il giovane gils weir segretamente innamorato di han conduce una propria ricerca parallela fra vecchie pettegoli amori impossibili un'eredità che viene da lontano figure enigmatiche e una misteriosa croce scarlatta la morte bussa natale tiene l'elettore con il fiato sospeso fino all'ultima piagina quindi fondamentalmente i tre protagonisti sono han che è la presunta omicida gils che è il marito della ragazza il futuro marito della ragazza morta tutti gli occhi vanno su han perché segretamente han e gils sono innamorati quindi tutti pensano che han ha ucciso la futura sposa di gils per farlo proprio ma molto probabilmente non è stata lei allora le prime pagine mi hanno annoiato a morte perché è proprio il racconto natalizio quindi quello fa gli auguri a tizio tizio fa gli auguri a sembronio il regalo tra l'allero tra l'alla però nel momento in cui la ragazza che viene uccisa devo dire che proprio nel momento in cui viene ritrovato il suo corpo inizia ad essere un incalzante quindi voglio assolutamente continuarlo e finirlo anche perché poi il Natale passa io me lo sono preso proprio per leggere il Natale però sicuramente ora col fatto che mi ha preso un po' di più lo finirò sicuramente in tempi brevi e poi mi sono preso un altro libro sempre ambientato nel periodo natalizio ma in questo caso abbiamo un crime ovviamente e qui abbiamo a cena con l'assassino di Alexandra Benedict edito per la Newton Compton editori non riesco più a parlare per al modico prezzo di 9,90€ anche questo tutto cartonato anche questo più o meno è dello stesso livello dell'altro forse qualche pagina in più e quando ho visto il prezzo irrisorio ho deciso di prenderlo proprio immediatamente questa poi tra l'altro la copertina è meravigliosa volevo togliere il prezzo per farvela vedere tutta ma ovviamente un po' di forse riesco a togliere un po' di bollino mi è rimasto cioè quando ho visto la copertina sono impazzita perché abbiamo questo oro matt quindi opaco con i fiocchi di neve nero lucido questo albero di natale con tutte le chiavi e poi quando ho letto a cena con l'assassino ambientato nel primo natalizio non potevo non prenderlo assolutamente questo lo voglio leggere dopo questo assolutamente cosa mi ha incuriosito il fatto che ci sia stato scritto cioè che ci sia scritto 12 giorni per risolvere gli enigmi riuscirai a sopravvivere? basta conquistata e nulla allora Lily Hermitage ha deciso che non metterà mai più piedi a Handgame House la grande dimora di famiglia in cui sua madre è morta 21 anni prima i suoi propositi però vacilano quando riceve una lettera dalla zia che la invita alla sfida tradizionale che si tiene ogni anno il gioco di natale in cosa consiste? i partecipanti dovranno trovare 12 chiavi con i 12 indizi a disposizione quest'anno c'è un premio speciale l'atto di proprietà di Handgame House a Lily non interessa nulla della casa ma nel biglietto c'è un dettaglio che basta da solo a convincerla durante i giochi verranno rivelati gli indizi per scoprire finalmente la verità sulla morte di sua madre ma è davvero così? si tratta di uno scherzo di pessimo gusto per scoprirlo Lily deve trascorrere 12 giorni nella grande casa insieme ai cugini risolvendo enigmi e indovinelli per rivelare uno a uno i segreti più scuri della famiglia Hermitage quando una tempesta quando una tempesta di neve isola la casa da ogni contatto con l'esterno tutto può succedere cioè questo libro è stato scritto per la mia mente assolutamente non vedo l'ora di leggerlo e dato che mi aspettano due viaggi questo spero di finirlo prima comunque sia ho da leggere per fortuna in caso i miei libri non mancano mai ma ora veniamo all'ultimo regalo ovviamente non è il meno importante perché mi è stato fatto da Antonio Antonio come sempre non sapeva cosa regalarmi perché dice hai tutto e quindi per facilitare il compito gli ho mandato una cosa con 800 una lista con 800.000 cose gli ho detto scegli una cosa fra quelle e nulla qui c'è la mega letterina che mi ha scritto e per me si poteva già fermare a questa perché questa vale più di ogni altra cosa e prima che rincominciare a piangere mi faccio vedere il suo mega regalo allora chi mi conosce sa che io non indosso scarpe non indosso scarpe da ginnastica indosso solo stivali stivaletti stivalazzi stivaluzzi le uniche scarpe da ginnastica che amo sono le all star e sono esclusivamente quelle bianche che tra l'altro mi sono comprata e vi ho fatto vedere mi sono comprata le superga perché sono particolari mi ero comprata le buffalo perché sono particolari Antonio mi aveva regalato le vanza perché sono semplici e mi piacciono al di là di quello non vado non perché non sono una tipa sportiva però quando ho visto queste scarpe mi sono completamente e follemente innamorata è stato un colpo di fulmine e lui me l'ha voluta regalare io allo stesso modo allora dire la verità quest'anno ad Antonio ho fatto il calendario dell'avvento quindi dall'1 al 24 ha scartato dei piccoli regali anche se poi il 23 gli ho fatto una bellissima t-shirt del Rana Papiri il 24 gli ho regalato un voucher per due ingressi più due aperitivi giornalieri alla Smana che è il centro benessere qua a Prato e poi appunto il 25 gli ho dato il regalo finale e anche a lui ho regalato un paio di Nike come avevo fatto a due Natali fa e personalizzate gli ho personalizzato una tipologia di Nike che non aveva e di un colore che non aveva e lui anche si è presentato con con un paio di scarpe Nike e io da quando me le regalate piedi a parte ovviamente quando vado a lavorare perché a lavorare tengo mi metto il camice perché alla fine mi sono comprata il camice perché mi ero rotta di sporcare e di rovinare tutte le magliette bianche che avevo quindi indosso un paio di di sketcher e ovviamente non metto le scarpe buone perché si rovinerebbero tra colori cera eccetera eccetera ma quando andiamo fuori non ho più messo stivali anche la sera cioè io che esco a cena la sera con un paio di sneaker mi fa troppo strano ma sono qualcosa di stratosferico cioè ditemi voi cosa non sono queste scarpe sono meravigliose allora io sono molto ignorante perché ripeto non ho mai indossato sneakers ma queste a parte che c'è scritto quindi mi viene facile allora queste ovviamente sono numero 41 e sono le Dunk Low le Dunk tra l'altro sono la la sua linea di Nike preferite infatti ne ha sì ne ha 10 solo di Dunk di colori diversi e lui è veramente malato comunque sia cioè ditemi cosa non sono ovviamente per me sono sobrie perché comunque sono tutti colori molto tenui beggioline ma la particolarità che mi ha fatto innamorare è questa appunto la V di questo color terracotta bruciata in peluche che poi appunto viene ripreso sul davanti continua tutto dietro cioè sono meravigliose le amo le amo sono qualcosa di strepitoso top veramente e nulla siamo dopo dopo 45 minuti oddio non si caricherà mai sto video comunque questi erano tutti i miei infiniti regali di Natale io ringrazio ancora veramente tutti quelli che hanno pensato a me a dire la verità manca ancora qualche regalino perché il lavoro questo nel mese di dicembre per chi lavora nel campo estetico come me è stato risucchiato nel vortice delle clienti non ho ancora dato e quindi credo ricevuto altri regalini ma appena riuscirò a vedere le mie amiche vi farò sicuramente vi farò vedere poi nei prossimi video io spero di avervi tenuto compagnia buon anno e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao